Allora siamo con Simone Bavuoni, man of the match della sfida pareggiata 1 a 1 contro Grupama Saronno da parte delle sequoie, un po' sofferta, perdevate, poi tu hai pareggiato insomma non è stato facile? No, è una partita difficile, loro sono molto bravi, siamo riusciti a pareggiare va bene così proseguiamo, siamo dall'avanti insieme anche a loro quindi vediamo chi arriva in fondo prima. Pochi tiri in porta, direi portieri praticamente disoccupati, loro hanno anche sbagliato il rigore, insomma alla fine va bene il pareggio. Sì sì, direi che va bene alla fine, conti alla mano e va bene. Allora ti diamo il premio Man of the Match, farlo vedere bene, questa è la saturetta, poi c'è il buono, quello di Bet Advisor e poi c'è il loro premio anche di Space23 che è il nuovo store di articoli sportivi per tutti gli sportivi, costo Galibaldi 104 a Milano e dunque insomma complimenti per questi premi, ciao grazie. Grazie. Grazie.